Il risultato in sé è un buon risultato, sono quasi 13 mila voti, l'aumento dei votanti di per sé per noi era un obiettivo, convincere le persone a tornare a votare. Abbiamo avuto un ritorno dei giovani non solo al voto ma anche nella partecipazione alla politica che non si vede da tanto tempo e naturalmente noi volevamo cambiare questa regione, volevamo riprenderci i nostri giovani e dargli un futuro. Questo risultato ovviamente non farci contenti, ci preoccupa perché abbiamo potuto avanzare un centrodestra di quel tipo lì che al di là delle candidature, di quello che sarà la persona del nostro Presidente nel futuro, ci racconta di una regione che rischia di essere supertrivellata, che non riconoscere la sua vocazione, quella di valorizzare le risorse naturali. Il petrolio non si può bere, invece l'acqua sì, finché l'abbiamo pulita e quindi la preoccupazione è appunto per il destino di questa regione. D'altra parte invece in questo percorso elettorale noi abbiamo realizzato un esperimento che è unico in Italia, quello di mettere insieme la sinistra alternativa tradizionale con i movimenti ambientalisti, i civici, in un'alleanza larga che ha convinto molte persone davvero a tornare a votare, a riavvicinarsi alla politica, alla buona politica. Quindi diciamo da qui si riparte per costruire un'alternativa vera e questo modello di sviluppo che non ci appartiene e che non ci farà bene. L'ambiente è proprio il tema che forse la distanzia maggiormente da Bardi, è preoccupato anche sul discorso del nucleare? Adesso mi fa preoccupare, non ci avevo proprio pensato che si potesse solo immaginare di tornare ai tempi di Scanzano, è vero che qui abbiamo un altro generale, magari per imitazione, è vero che c'è ancora questa questione del deposito unico che mi è stata ancora risolta, ancora non si sa dove verrà fatto, spero bene che Berlusconi non ci riprovi, però sono tranquillo che il popolo ugano su questo già si è espresso molto chiaramente, diciamo veramente si è espresso chiaramente anche sulle trivelle, è stata l'unica regione in Italia come sapete dove il referendum è stato vinto, però diciamo ci sono anche, non c'è solo il Consiglio regionale, ci sono anche i cittadini, ci stanno i movimenti che si possono organizzare, quindi noi siamo pronti a fare la sentinella contro qualunque tipo di forzature in questa direzione. Sento un commento sia di critica ma anche di speranza rispetto ai giovani tornati al voto e gli altri discorsi che ha affrontato, questa è una sua opinione anche per il dato nazionale visto che la Basilicata si è accodata all'Abruzzo, alla Sardegna? Sì, diciamo che è un trend che impressiona, anche perché vedere le regioni del sud che votano lega dopo che Salvini ci ha ingiuriato per tanti anni in quel modo e denuncia un fatto importante del quale è anche la sinistra responsabilità e cioè che nel momento in cui i partiti hanno chiuso le porte alla partecipazione, si sono chiusi nelle loro stanze a decidere per tutti, questa roba non ha aiutato una crescita anche culturale dei cittadini, quindi diciamo che poi si voti di pancia e non di testa è quasi naturale, quando alla testa non si dà nessuna occasione per cimentarsi, per crescere, per confrontarsi.